Allora mister, oggi seconda uscita stagionale, è arrivata ancora una sconfitta contro il Fossano. Come giudica questo momento? Siamo in fase di costruzione, non siamo ancora al 100%, oggi secondo me i mirano molto bassi perché faceva troppo caldo. Abbiamo fatto un discreto primo tempo, secondo tempo molto male. A una settimana dall'inizio del campionato, quali sono le sue sensazioni? Le sensazioni sono che noi sappiamo che dobbiamo lottare per salvarci, mentre su guarda come il Fossano del Troneo deve sempre vincere il campionato. Sicuramente sono realtà completamente diverse del nostro, noi dovremmo andare a una battaglia. Oggi sicuramente non l'abbiamo fatta nel secondo tempo, abbiamo fatto un discreto primo tempo, però non sufficiente, abbiamo creato troppo poco. E' soddisfatto dei nuovi innesti? Sì, ma secondo me ci possono dare una mano tutti, da Caserio, Pernice, Romana, possono darci tutti la mano. Adesso cerchiamo di trovare anche un assetto di squadra per riuscire a fare dei punti. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.